Hey Woters! What's up, my name is SalsuodyOne e siamo nuovamente qui con un nuovo ed entusiasmantissimo video con play e siamo sempre qui su Resident Evil e mi sono appena accorto leggendo un dei messaggi privati che mi sono scordato un'arma prima e quindi con sommo dispiacere mio e con sommo godimento vostro dobbiamo tornare indietro a prenderla ooooh perché qualcuno mi ha scritto che prima della parte con il capanno c'è un'arma nel cimitero e suppongo di aver capito quale sia il cimitero solo che ovviamente dovremmo andare a prendere tutta quella roba tornando indietro che poi sinceramente questi cazzo di cosi sono tipo stupidissimi chi si preoccuperebbe chi si preoccuperebbe mai di questa cosa ehi serpalti e uccidiamoli sprecando miliardi di munizioni inutilmente senza alcun motivo logico wow certo tutti proprio sbrigati 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 prima che arrivi noi bastard dei animali oh yeah ok se non non ho intuito male qual è il cimitero dovrebbe essere questo questo quello con i corvi sperando che non vi attacchino i corvi perché sennò siamo fottuti non mi avete detto qual è la cosa dove è esattamente l'arma ma dovrebbe essere da queste parti vi ringrazio comunque per tutti i suggerimenti che mi date perché se fosse per me mi scorderei qualsiasi fottutissima cosa quindi ben venga fermo 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 oh cazzarola allora dovrebbe essere qua giusto perché io in effetti sono andato dritto e non ho neanche controllato la mappa e in effetti c'è un pezzo a destra in cui non sono andato come un bravissimo demente ovvero qui ok qui che diavolo c'è un'incisione nella rientranza due linee verticali una croce e tre linee orizzontali qualsiasi ha una sorta di simbolo può darsi quando oh no mi serve la cosa del vento maledetti piccioni immondi e tramite la magia della roba lì abbiamo adesso il nostro stemma e voi non vi siete dovuti sorbire nessun rientro a piedi da lì dannazione a me e ora rifacciamoci tutta la strada felice come di bambini facendo finta di essere felici di tutta questa enorme giganterima perdita di tempo del cazzo fantastica proprio quant'è bella vaffanculo ok aria eccoci qui no non ci pensare nemmeno per il cazzo usa questo boom e me ne regala altre tre ma grazie 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 prendere stemma con la luna si prendere stemma con la stella si e prendere stemma con il sole si hanno qualche parte ho già capito dove le devo inserire ma devo capire se ok bene a forma di croce perfetto quindi questo c'ha la croce sporgente questo c'ha i cosi tre sporgenze metalliche ok esamine qua premelo si ok e qui sono due sporgenze metalliche quindi una due e tre bene vaffanculo metti questa plop e vaffanbene entra qui dentro plop e qui plop oh mio dio sei una fottutissima magnum direi che siamo a posto possiamo andare a inculare qualsiasi stronzo abbiamo sul nostro cammino oh sei baby sei anche se non ho ancora capito una cosa del video precedente in effetti e mi rovina un po' il sapore di avere una magnum in tasca che è tipo guardala oh sei dio santissimo esamila si è caricata con proiettili magnum si yeah baby spero che si trovino abbastanza ricariche anche se per il momento non ho trovato un cazzo quindi speriamo bene fatto sta che stavo dicendo ah si che non ho ancora capito una cosa ovvero perché cazzo lo zombie quello il 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 pecca la peccatrice leatherface quindi il peccaface scusate intanto mi scordo il nome dei miei prodotti di bellezza come mai il peccaface non mi ha mangiato ucciso divorato all'interno quando mi ha tipo assordito non lo so ok sudare ma c'avevo un po' di sede mmm mmm avevo tanta sede in effetti c'è anche qui c'è anche tanta acqua il problema è che ovviamente credo sia zozza l'ercia piena di sangue e escrementi di cadavere quindi ah si no perché lo sapete quando uno muore rilascia non so se la sapete questa cosa quando uno muore diciamo si rilassa completamente ma molto completamente e quindi l'intestino anche quindi rilascia tutte le scorie che ha all'interno e in effetti io spero di morire dopo aver fatto una purga molto forte al bagno perché se no è un po' brutto no crepate no magari avete una di quelle belle morti belle fighe no tipo massimo ricordati si perché io mi immagino sempre che avrò un nipote di nome massimo massimo ricordati quando arriverà il momento tu sarai l'unico erede della casata e poi muori no e lui dice oh mio dio che morte epica e poi mentre sei morto gli fai e tutti che ti stanno venendo e la sganci nelle mutande e e tipo tutti oh ok grande nonno a proposito dato che sono qui fanno riprendere le erbe blu si possono poi non credo eh l'avevo supposto no almeno le metto nel nella scatola così in qualsiasi posto andiamo le possiamo comunque trovare perché siamo feghe da panico e ho anche un'altra elba verde quindi la unisco anche e dato che sto facendo questa cosa direi anche di fare questo ovvero di prendere la tanica siamo qui la riempiamo e la possiamo ci manca ancora la gemma gialla da poter inserire nel nella tigre di cui non mi ricordo assolutamente il luogo dove stava quella cazzo di tigre insomma non mi vengono i termini in questo momento non mi ricordo dove stava la tigre e mannaggia a me che non mi ricordo dove stava la tigre non guardate oh mio dio di nuovo questi strani simboli che ogni tanto appaiono dannazione simboli non fatelo mai più cazzo Leon sei ferito sì è molto ferito quindi non guardate chiudete gli occhi nessuno ha visto niente credo che a questo punto debba fare questo non è vero opto che questa sia la cosa da dover fare qui anzi forse anche questo ovvero andare qui perché credo di poterci salire sopra quindi se i miei calcoli sono esatti questa dobbiamo posizionarla qui vai bellezza poi ci saliamo sopra saliamo qui sopra scendiamo qui scendiamo qui e abbiamo fatto questo bello scherzone al fottutissimo tentacolone oh oh niente nientai per oggi merdaccia niente che stanza mi trovo un enorme corridoio pauroso che bello non vedevo l'ora sembra esserci niente oh oh bene scritta a caso assolutamente a caso cazzo che c'è qui vi sono dei giornali sparsi per terra tutti contengono articoli sulla stars è chiusa sulla targa c'è scritto galleria bene così pieno di masse e merda pieno di mosche la 002 è aperta sì la 002 direi che è molto aperta se capite cosa intendo ho 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 intendo la stanza sì sì Gerardo intendo la stanza il diavolo c'è qui ho visto qualcosa rapporto pianta 42 sono passati 4 giorni dall'incidente la pianta al punto 42 sta crescendo a una velocità sorprendente nonostante vi siano ancora molti aspetti che non conosciamo sappiamo che su questa pianta il virus T ha avuto un effetto notevolmente più marcato rispetto all'altro gruppo di piante il virus T ha drasticamente trasformato l'anatomia e le dimensioni della sua ospite osservando nello stato attuale è difficile immaginare il suo aspetto originale sulla terra non esiste nulla di simile abbiamo scoperto che la pianta 42 ha due principali fonti di nutrimento una attraverso le radici poiché in qualche modo esse si sono infiltrate fino al sotterraneo subito dopo l'incidente uno scienziale impazzito ha distrutto l'acquario da loro il sotterraneo nella vera e propria piscina è molto probabile che sia una delle sostanze chimiche presenti nell'acqua a provocare la rapida crescita della pianta 42 tuttavia ancora non sappiamo quale sia esattamente la sostanza in questione un'escariscenza della pianta 42 a forma di burbo è stata avvistata a protendere dal soffitto del primo piano siamo convinti che si sia servita dell'impianto di ventilazione per raggiungere il primo piano numerosi tralci tentacolari si stendono dal burbo quando la pianta 42 avverte la presenza di una preta utilizza il tralci tentacolari per catturarla dopo di ciò ne risucchia il sangue tramite le ventose che ricoprono i tentacoli la pianta ha fatto inoltre registrare alcuni segni di intelligenza una volta catturata la preta o nei periodi di inattività i tentacoli si avvolgono intorno alla porta per il brucale l'intesto e l'ingresso eventuali intrusi purtroppo già diversi dei nostri scienziati sono stati vittime della pianta 42 dai racconti dei sopravvissuti è il risultato che tutti hanno osservato uno stesso particolare quando i lembi a forma di petolo si schiudono e rivedano le vitali parti interne della pianta questa tende a diventare più aggressiva un testimone ha descritto questo fenomeno come un meccanismo di autodifesa di cui però non si conoscono ancora i motivi 21 maggio del 98 Harry Sarton beh no in effetti non capisco i motivi di fare una cosa del genere dato che se tu mostri oh che con no proviamola ma hai fatto via un infarto io adesso te ne penti oh Leon entro today eh mi avete detto che se poi ah no cazzo sentite dato che non so ne leggi e ne scrive famosi eh che deficiente e vabbè siamo arrivati a questo dannatissimo punto del manga che diavolo c'è qui c'è qualcosa cosa abbiamo qui eh Harry cosa ci stai nascondendo qui dietro oh vedo che ci stavi nascondendo un piccolo sotterraneo bravo Harry bravo non so perché lo sto chiamando Harry probabilmente perché credo si chiami Harry il custode solitamente Harry sapete quei custodi ubriaconi che girano che girano ehi Harry cosa stai facendo oh signore sto controllando che non ci siano cose insetti chiave casa del custode certo è ovvio lavandino per d'acqua forse la valvola è rotta oh beh si se ne preoccuperai il custode vero già credo proprio di si e non è caso dopo aver visto questo continueremo la nostra traversata in mezzo alla casa del custode nel prossimo video gameplay quindi bro ci vediamo nel prossimo video gameplay sempre con il vostro rax nottuno oh yeah